Nuovo record del mondo alla Maratona di Valencia del 6 dicembre 2020, anzi 3 record del mondo, vince Kibibuot Kandi piazzando quindi il nuovo record sulla mezza maratona e correndo la distanza in 57 minuti e 32 secondi. Secondo arriva Gekko Kiplimo dall'Uganda che con 57 minuti e 37 secondi piazza quello che è il secondo miglior tempo di sempre. Il terzo Ronex Kipruto che corre i 21 chilometri in 57 minuti e 49 secondi, corre meglio di quello che era il record del mondo sino al 6 dicembre 2020, ovvero il 58 minuti e 01 secondi di Geoffrey Kamwarwarwar e quindi una gara sicuramente fantastica, 3 atleti quindi migliorano il record del mondo. Il caniano Kibibuot Kandi è giovanissimo, ha infatti 24 anni e comincia a correre la mezza maratona nel 2017, al suo esordio corse in 1 ora 0,3 minuti e 34 secondi. Nel 2019 riesce a correre per la prima volta sotto i 60 minuti, in quelli Lille corre infatti in 59 minuti e 34 secondi. A settembre del 2020 in quelli Praga corse i 58 minuti e 38 secondi, quindi per la prima volta sotto i 59 minuti. Mentre i mondiali della mezza maratona in Polonia, in quelli Gidna, corre in 58 minuti e 54 secondi, diventando così vice campione mondiale della distanza. Quindi Kibibuot Kandi rimane il primo uomo a correre sotto i 58 minuti. Ora sono tre gli uomini che sono riusciti a correre la mezza maratona sotto i 58 minuti, ma purtroppo lo hanno corso qualche secondo dopo di lui.